Per parlare di Streller volevo dire che è molto difficile, perché c'è tante cose da dire su di lui. Il suo talento racchiudeva tutte le sfumature della sensibilità umana. Le cose più importanti però, per quello che mi riguarda, sono dei piccoli particolari. Io non conoscevo Streller, un anno a Torino interpretai per la televisione con la regia di Fenoglio e Budenbrook ed ebbi la meravigliosa, meravigliosa occasione di conoscere Valentina Cortese, mia cara, 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 carissima amica. Da lì è nata una grande amicizia, siamo stati vari due mesi. Io non conoscevo Streller e già eravamo nel 1970, quindi avevo già i miei 37 a 40 anni. Evidentemente quando finì la trasmissione, ritornò a Milano, parlò talmente bene di me a Streller che, guarda caso, Streller mi fece chiamare un amministratore che poi amministrò alla Santa Giovanna dei Macelli, dicendo che lui veniva a Roma, se poteva incontrarmi. E io felicissimo. Sapevo, ma aveva detto Valentina che stava preparando Santa Giovanna dei Macelli e poi sei subito a quel testo. Io Santa Giovanna dei Macelli la conoscevo molto bene questo testo. E io sono stato, sono una persona che aveva tanti difetti. Uno dei miei difetti è quello di non cedere, ma di cercare sempre di comprendere e quindi di evitare i, non dico i litigi, ma anche le prese di posizione troppo accese. Però, per certe cose, quando sono convinto di una cosa, come quando ero convinto da una famiglia poverissima, dopo guerra, di venire a Roma dove non ero mai salita nemmeno su un film e fare teatro, è una mia certa caparmietà, ecco, diciamo, che mi ha aiutato a essere fortunato. Cosa è capitato quella volta? Che Steller mi chiamò. Andai a trovarlo, io felicissimo, in questo albergo vicino a Piazza di Zedra, un grande albergo. Era la prima volta che io incontravo Steller, conoscevo tutti i suoi stracoli, e Steller mi ha ferito di fare Slyft, un bel personaggio, in Santa Germana dei Macelli. Io con una arditezza, non so come giustificare, chiamare questa parola con il vocabolo giusto, gli dissi, mi dispiace, ma io non posso tutte le sere, anche se faccio Slyft, stare in scena e sentire un altro attore che fa Mauler, perché Mauler sono io. Mi dispiace, non accetto. Steller, stupefatto, non accadeva mai, ero senza lavoro. Slyft è una parte splendida che poi ha fatto il caro Pistilli. E ci lasciamo così. Non feci in tempo ad arrivare all'albergo mio di Roma, che già erano arrivate tre telefonate da Milano di Valentina. Non feci in tempo a salire in camera, che stavo per aprire la porta a camera, altra telefonata. Valentina, la prima cosa, ma tu sei pazzo, aggredendomi con una violenza e con un pianto, ma cosa hai fatto, cosa hai fatto, ha detto Slyft questa cosa, ma ti rendi conto? Ma ha telefonato Giorgio, è scandalizzato, non lavorerei mai più. Lo so, ma io mi sentivo questo. Io sulle cose in cui sono sicuro, resisto. Non lavorerò più con Slyft, ma io non posso stare in quinta e sentire un altro attore che fa Mauler. Mauler sono io. Finì la cosa con i pianti di Valentina. Passò quasi un mese. E una notte, io mi ero semi addormentato dopo aver letto, che leggo sempre di notte, arriva una telefonata dal portiere che mi dice, senta, c'è qui un signore che quando ho detto che vuole parlare con lei, gli ho detto che stava riposando e mi ha risposto in maniera molto violenta. Sveglialo! Sveglialo! Devo parlare! Ma chi è? Dico, ma chi è questo signore? Non lo so, non l'ho capito bene. Ma lo passi? Allora, vuoi farlo sì o no, questo Mauler? Scusi, non capivo. Chi è? Come chi è? Sono Giorgio, Giorgio Streller. Lo vuoi fare sì o no, Mauler? Io rimasi senza prova. Dico, subito lo faccio. E così feci Mauler. Per dire, quindi, un episodio. Ma la cosa che mi sorprende di Streller e che mi sorprende e mi commuove e mi fa comprendere quanto sia ricco lui di umanità, perché? Non mi aveva magari mai visto recitare. Perché ha deciso a me all'ultimo momento? Pochi giorni mancavano all'inizio delle prove. Che cosa l'aveva convinto? Forse vedere questo giovane uomo così deciso, così deciso nel suo decidere il proprio futuro. Questo è stato un appuntamento bellissimo. Con Streller, nei primi giorni poi, ha detto subito, vieni con me, mettiti d'accordo con Valentina, venite su a Portofino. Avevo una villa in alto. Stiamo qualche giorno perché tu non capirai nulla, non capirai niente, devo spiegare tutto. Così mi trattavo. Io dico, benissimo, con Valentina. Dico, telefono a Valentina. Che gioia, che gioia. Ci siamo messi a conto e siamo andati a Portofino. Arrivati a Portofino, prima Valentina andò a visitare le tombe dei suoi cagnolini morti. Estreller l'accusò di essere stata l'assassina di tutti quanti. Però disse, vieni su con me, vieni su con me. Vieni in camera mia che ti faccio vedere una cosa. Io non sapevo come comportarmi perché era la prima volta che parlavo, la seconda volta. mi portò in camera sua e c'era una camera tutta tempestata di fotografie, di mendicanti, di gente che era stata nei campi di concentramento. Era un po' un'idea che poi ha sviluppato in Santa Giovanna. E la cosa che mi stupì è che in un angolo di questa cosa vedi tanti libri di fantascienza. Estrelle che leggevo la fantascienza. La seconda cosa che mi stupì, guarda ti faccio vedere una cosa, vedi sì incredibile, e prese una scatoletta bellissima. Era una scatoletta di trucco che gli avevano donato in Francia, quando era stata in Francia una delle ultime volte, ed apparteneva, non si sa quale attrice, con tutti i trucchi, delle coppette piene di trucco. E lui guarda, guarda, c'era un pennellino, lo intinse e mi mette un po' d'acqua. Guarda, si dipinse, guarda che bello, hai visto che bello? Io ero come disorientato da questa cordialità, da questo... Ma la cosa più bella fu questa. Restammo lì 3-4 giorni. Lui non mi parlò mai di Brecht. Dice soltanto non capisci niente, quando cominciamo le prove ti parlerò di Brecht. Però un giorno disse, però domani facciamo la lettura. Allora, nella sala di sotto, io, Valentina, Frigelio... C'era Carpi, la caro Fiorenza Carpi, come li voglio bene. C'erano i suoi assistenti e c'era la lettura. Eravamo tutti lì che aspettavamo la lettura. Scheller scese con il maglione nero e cominciò a leggere. Benissimo. Dopo un po', si accolaro talmente che io, non solo io, mi accorsi che si macchiava il coso, si era truccato. Sudando gli accolava il cerone. Io la trovai bellissima. Mi fece così commuovere. Un uomo come Scheller che per legge si truccava. Faceva teatro. Non so, non so darci una spiegazione razionale. La poesia ha la sua razionalità, che forse la razionalità non conosce. Ma era bello. Da lì mi sono innamorato. Innamorato artisticamente di quest'uomo. Un altro episodio ancora più divertente è stato divertente. Quando abbiamo fatto le prove della lunga giornata, io i primi giorni volevo andare via. Non capivo. Mi stava rivoltando come un guanto. Perché mi diceva, fa un po' come vorresti fare tu questa cosa. Io la facevo, non va bene così. È tutto il contrario. E io ho capito che mi stava tirando fuori quello che io avevo dentro e non sapevo di avere. Tanto è vero che a un certo punto, in un giorno o due, mi scoppiò. Io capivo tutto quello che mi diceva. Ero diventato un altro attore. Cioè la capacità che aveva non di imporre quello che voleva, di tirar fuori da chi lavorava con lui ciò che quegli attori o quelle attrici avevano dentro. Da lì scoppiò una tale collaborazione. La prima cosa che mi disse, tu come pensi di truccarti? Dico, non lo so, ci penso. E tu dico come ti vuoi truccare, io ti faccio truccare tutti i giorni. Non avere paura perché molta gente ti sorriderà di questa cosa perché generalmente non succede con questi trucchi. Il giorno dopo, uno sfregio di sangue, una bocca che diventava in sanguidata. E quello è rimasto il trucco che lui accettò. C'era da leggere, lo spettacolo inizia con la lettera di Pierpont, di Maule. E dice, legge questa lettera. Ma come si va a leggere questa lettera? E non so, a un certo punto dico, ma io avrei un'idea. Siccome è una lettera che lo turba, siccome dovevo salire dalla platea, una su una scaletta, salivo sulla scaletta, mettevo la mano dentro la giacca, come se soffrissi. Poi smettevo, tiravo fuori una lettera e dice, quella, lo spettacolo iniziava così. La Santa Giovanna la metteva in scena a Firenze, per il maggio al Fiorentino. Tante prove, tante cose. All'antiprova generale venne Ellen Weigl, che era ancora viva. Con un suo assistente si mise in platea e faceva la prova generale. Finita la prova generale, in camerino venne il direttore di scena e dice, senti, c'è Sterele che ti vuole giù un poico scenico. Ora fammi qualche osservazione, strano, dopo un'anteprima me lo fa domani. Ci si è su, e sul poico scenico c'era lui, la Weigl, e accanto alla Weigl c'era un suo traduttore, perché la Weigl non parlava italiano. Appena Weigl mi vide, mi abbracciò. E parlò in tedesco. Già Sterele comincia a fare... Il tedesco tradusse, la signora dice, peccato che Brecht non l'abbia visto. Lei sarebbe stato un suo attore ideale. E Sterele diceva, adesso questo si botta la testa. E lei diceva all'altro, al suo, dica, dica, dica. Ripeteva, la signora ha detto, ma no, ma è successivo. E questa è un'altra idea che invece era felicissimo di me. Ecco, questo incontro con la Weigl fu una cosa bellissima. Ma era bello il comportamento dei... non perché non ci credesse magari, perché un pochetto si monta la testa. Fu un altro ricordo bellissimo, come diede, la Santa Giovanna dei Bacelli. Noi recitammo a Firenze, andammo a Milano. E a un certo punto, dopo Milano, sbisero le prove. Perché eravamo 60 attori, economicamente... E' l'unico spettacolo di Sterele che non ha girato, non l'Italia, ma il mondo. Quando arrivò l'ordine, l'annuncio che la commedia e lo spettacolo terminavamo a Milano, perché non c'erano risorse economiche. Tutti cademmo, ma c'era tanta gente che... Allora io andai da Grassi, mi feci ricevere da Grassi. Grazie, mi ricevete? E gli dissi, senti, ma... Si rende conto che notizia è questa? Ma perché non viene a dirla a lei? Questa notizia a tutti noi. Sarebbe un gesto così bello. Il giorno dopo, ha fatto... E' venuto lui personalmente in teatro e mi disse... E' venuto ieri Mauri a dirmi questa cosa. Ha ragione. Sono io che devo dirvi questo e questo. E ci parlò io tutti perché. E la cosa, per dirti, il rapporto che ho avuto io con Milano. Io ho una lettera che ancora conservo, di Paolo Grassi, che mi ringrazia. Perché io, tra l'altro, tra Valentina e Giorgio, c'era un rapporto di amore, ma anche molto strano. Io facevo da pacere. Ero diventato pacere di entrambi. Non solo, ma una volta, loro abitavano in una casa, che era una parallela del teatro di Via Manzoni, quasi dietro all'albergo. La sua cameriera personale mi telefonò perché ero di casa. Venga, venga, perché qui stanno litigando. Sì, lo litigavano, ma ci volevano bene. Arrivai, la cosa che vedi, eri in un divano un po' accucciato, c'era la strana, con tanti piatti rotti intorno a lui. E lei neanche lì gridava. Beh, invece, gli mettevo pace. E allora, quella volta che io avevo un rapporto bellissimo, sia con la strana che con... pur avendo fatto una sola cosa, beh. Ebbi una collaborazione con lui incredibile, bellissima. Che, naturalmente, finito questo, lui mi disse tu il prossimo anno farai il relire con me. Io dissi, Giorgio, io sono giovane, come fare il relire? Il lavoro che facevo un tempo. Prima vicino a me questa Verona con la Valeria Moricone e poi subito dopo andai a Siracusa a fare l'Oedipo e dopo un po' leggo sui giornali che Tino Carraro faceva l'Oedipo con Strelia. Dopo un altro giorno vedo un altro giornale che dice questa cosa. Allora telefono a Giorgio, le dico a Giorgio. Ma io leggo che Tino Carraro, per carità, ma dimmelo perché io non ho preso nessun impegno, ho finito la Siracusa e poi devo lavorare quest'inverno. Ma tu sei pazzo, ma tu stai sentire i giornali. Era anche bugiardo, un bugiardo intelligente, un bugiardo onesto, ma bugiardo era anche. E mi disse, ma no, che ci credi? E io dico, che credo? Poi continuavo a uscire. Io decisi di non telefonare più perché non so cosa dire. Quando lui mi diceva... Arrivai a Roma e trovi una lettera che mi era arrivata qui, che è ancora a conservo. Era di quattro pagine, una ne ho persa, battuta a macchina con un nastro azzurro, con le sue giunte a penna, dove mi diceva che era un mascazzone nei miei confronti, che era vero, che io ero andato a fare relire, però ero troppo giovane. E lui l'aveva dato anche a Tino Carraro, bravissima, attore, per carità. Gli ho detto, ma guarda, mi diceva che era verità giusta, anche perché ho un debito con Tino, perché lui doveva fare il Galileo e io l'ho fatto fare a Bozzelli. Ho un tale debito che tu devi capirlo. Io sono felice, ho detto che tu possa rimediare questo debito, soltanto dirmelo. e ho ancora queste pagine. E da lì è nato questo amore. Tant'è vero che quando io ho fatto i quaderni di conversazione di Beethoven, per la prima volta, l'ho fatto prima a quello stabile di Roma, poi quando ho fatto compagnia io a Glauco Mauri da solo, lui mi telefonò personalmente e mi disse, io non ho visto lo spettacolo. Non so, ma la sola idea che uno possa fare uno spettacolo, un quaderno di conversazione, questo teatro è tuo. E sono andato al teatro dal piccolo di Gio a fare il quaderno di conversazione, perché lui mi ha voluto. Questa è un'altra cosa che mi ha fatto un piacere enorme. L'ultima, una delle ultime cose invece, simpatica, tenerissima, ma anche picchiava un po', un giorno ogni tanto ci telefonavamo, però non avevamo più il rapporto. Lo vedi all'aeroporto qui di Roma, stava partendo e lui tornava a Milano. Era con una valigia in mano, lo vedi? Oh, ciao, ciao, sto partendo, ciao, ciao. Ma affettuosamente, e gli ho detto, tu non mi hai fatto fare il relire, adesso lo faccio io. Fai il relire? Sì. Con chi? Con la mia compagnia. Ma chi ti fa la regia? Io. Lui mi guardò. Cosa? Io con la mia compagnia faccio la regia del relire e faccio il relire. Lui mi guardò, mi prese la testa dietro così, me la vicino a lui, mi guardò, sorridendo, mi disse, tu sei un pazzo. E se ne andò. Però c'era tutto. C'era anche tu sei un uomo coraggioso. Tu sei un pazzo perché è una cosa assurda che tu potessi fare questa cosa. E questo fu un altro ricordo carissimo che ho di Strello. Spero di aver detto le cose che più mi hanno toccato gli Strello. Sono dei particolari che però ognuno dei quali fa capire una cosa bellissima che aveva Strello, che mi è rimasta impressa, certo che spiegava i personaggi, certo che aveva talento, ma capiva quello che tu avevi dentro. Io certe volte pensavo, specialmente quando non sei così maturo, adesso lo sa, ho 90 anni, ma quando tu eri, anche se avevi 40 anni, facevi un grande... Tu avevi dentro magari un'idea che volevi esprimere però non eri capace, forse troppo... La tenevi nascosta. dicevi quella frase, ma solo, nemmeno pensandoci, ti fermavo a dire... Perché hai detto questa cosa così? Cosa volevi dire? Già in me sorgeva, aveva capito... Ma no, era una cosa... Cosa volevi dire? Perché vedi? Ma no, perché... E palla! Questo era bellissimo. L'aiuto meraviglioso. Che tipo ti va a dare? Perché non è solo comprendere un'intenzione artistica. È comprendere un'anima. È comprendere un uomo. E questo è avere la grande... Anche se era qualche volta bugiardo, la grande meraviglia di questo uomo.